Ciao a tutti, oggi avremo il secondo box di Bandit Ring e come sempre direi di passare all'apertura Nel primo box abbiamo trovato tante belle carte ma nessuna shiny, vediamo se qui invece andiamo meglio E troviamo una bella shiny Tanto se non la trovo me ne prendo qualche altro box perché questa volta la voglio sbustare Ok, direi di prenderci sempre i soliti 10 pacchetti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Mettiamoci qui upa così ci porta fortuna Ok, qua mettiamo i pacchetti e procediamo con il primo pacchetto del secondo box Nello scorso box ci ha portato fortuna il primo pacchetto, vediamo, abbiamo un Registil e abbiamo subito un'Olografica Poi abbiamo un Relicant, un Porygon 2, un Wooper e un Gutra che è doppione quindi la metto qui Ok, per adesso è tutto doppio Ok, per adesso tutto è doppio Nella seconda box, vediamo se andiamo meglio Ok Un Ralza Un Bellossom Un Unknown E una Trainer Che da quanto ho capito dovrebbe essere anche giocabile questa Trainer Perché ogni volta che usciva nei video diciamo dei giapponesi erano iper contenti di averla trovata Quindi Ok, vediamo, vediamo Ovviamente niente Shiny ancora E abbiamo un Baltoi Un Malamar Molto bello questo Malamar Vi faccio vedere Un Oh, c'è qualcosa E Oh, un Kyurem Iex Full Art Bello Molto bello È la prima Full Art Che Mi esce da un box giapponese Ok Molto molto bella Speriamo di continuare così con questo box Vediamo, vediamo Un Larvesta Un Persian Kombi E poi un allenatore Che non so come si chiama Legame mentale con Terranitar Cotony forse si chiama Non lo so Pespiquin Un Eevee E L'olografica è un Metagross Che se non sbaglio anche questo è doppione Quindi Non ci interessa molto Le doppie poi Metterò una foto su Facebook Che chi è interessato le posso scambiare Abbiamo Un Geridos Un Inkay Golurk Magikarp E Un addestramento Ultimi Tre pacchetti Speriamo almeno un Iex In questi Ultimi tre pacchetti Entei Normale Oh, c'è un Iex Wimiscott Non mi ricordo proprio il nome di questo tizio Wooper Oh, bellissimo Upa Oh, bellissimo Bellissimo Upa Unbound Questa era una delle Iex Che volevo Bellissima Veramente bellissima Veramente, veramente Bella La mettiamo qui Così Ci stanno millemila Upa In un solo video E andiamo avanti Con il Penultimo Penultimo pacchetto Abbiamo Questa dovrebbe essere una Flash Energy Kirlia Spinarac C'è una Olo Speriamo che sia una Olo nuova Eh, no Ma c'è tutte le Olo doppie Olo Vabbè Giotto e un Olo Ultimo pacchetto del secondo box Vediamo, vediamo Metagross Vespiquin Ralts Relicant E Sempre Questo tizio Va bene Con le Olo Siamo andati malissimo Però Con le Iex Due nuove Iex E questo è l'importante Un Kyurem Full Art E un Upa Unbound Iex Va bene Un saluto a tutti E ci vediamo Al prossimo video Con la seconda parte Del secondo box Ciao